Ed ecco a voi la seconda parte delle dieci cose interessanti da sapere del Natale. Anche Babbo Natale ha il suo lato oscuro. Vi presento Krampus e lui è un demone che praticamente va alla ricerca di bambini cattivi, soprattutto in Austria. Chris Dickens, con il suo racconto di A Christmas Carol, un canto di Natale, interpreta Scrooge, un avaro tizio. Proprio brutto, né? Non c'è presepe senza cometa. Sembra che la cometa sia stata introdotta da Giotto in uno dei suoi dipinti. A causa perché? A causa di una sua esperienza personale. L'uso di darsi regali nasce dai Romani. Più precisamente, durante il periodo natalizio, gli schiavi erano considerati libri per quattro giorni. Scambiavano ovviamente i regali. Tregua di Natale era il periodo di stop nelle guerre.